ciao a tutti nuovo video svuota la spesa Lidl abbiamo speso 61 euro e 51 centesimi abbiamo preso due bottiglie di passata di pomodoro questa qui bio ho ripreso il mio amatissimo mix di noci piccanti poi abbiamo preso un pacchettino di barrette kinder abbiamo preso un sacchettino di castagne non vedo l'ora di mangiarle 3 confezioni di prosciutto cotto 3 confezioni da quanti grammi 200 grammi di gorgonzola piccante poi ho preso 3 cannottiere io d'inverno le uso tantissimo e costano 6 euro e 99 e sono 3 e sono 95 per cento cotone poi abbiamo preso il caffè uno classico e uno decaffeinato e invece l'intenso ancora non si trova poi ho preso due confezioni di schirra poi c'erano in offerta questi qui 18 bastoncini di pesce e ne abbiamo preso due in offerta a 1 euro e 69 poi abbiamo preso due pezzi di grano padano poi ho preso la zucca a cubetti quattro uova poi ho preso questi pantaloni sportivi da donna per il lavoro molto semplici pantaloni da tuta poi Marco quando ho visto questi è impazzito ne ha presi tre sono peperoncini macinati poi vius del con formaggio un pacchettino poi tre pacchi di pastina risoni e infine abbiamo preso la marmellata di fichi e mandorle che è buonissima e basta questa era la nostra spesa di oggi grazie mille di aver visto il video ci vediamo la prossima ciao